Ci saranno anche le associazioni Crescere Insieme e Agape di Sciacca domani mattina da Grigento alla manifestazione promossa dalle associazioni che si occupano di persone affette da gravi disabilità. Persone che si sono viste sospendere i servizi che garantivano loro il supporto necessario per la quotidiana assistenza domiciliare. I manifestanti chiederanno di avere riconosciuta in Sicilia parità di trattamento e servizi garantiti tutto l'anno come avviene nelle altre regioni e di essere liberi di scegliere dove e da chi farsi assistere attraverso l'erogazione di un assegno di cura che garantirebbe ad ogni persona disabile una vita libera e indipendente. Noi diciamo basta a quelli che sono la mancanza dei servizi, la sospensione dei servizi e facciamo un esempio molto semplice, il servizio è quello dei disabili gravissimi. È un servizio che viene erogato dal Fondo Nazionale della Non Autosufficienza e purtroppo però è a discrezione delle competenze delle regioni che possono scegliere di aderire, non aderire, di erogare, di non erogare il servizio che a loro volta danno competenze e libertà ai distretti che possono scegliere di aderire o non aderire ai servizi. La regione siciliana cosa ha deciso in questo caso? La regione siciliana emana il bando però la discrezionalità è dei distretti pertanto ci sono distretti che hanno aderito al servizio per esempio Sciacca lo è uno di questi ma distretti che non lo fanno e che non hanno aderito e quindi non hanno nemmeno fatto i bandi poi non sempre questi bandi vengono pubblicizzati e arrivano alle persone pertanto noi diciamo cambiamo un po' tutto il sistema dateci il rassegno di cura, noi siamo familiari, noi siamo i familiari e siamo la voce dei nostri figli i nostri figli non possono scegliere, non possono parlare e non possono avere una vita libera se non grazie a noi che ci battiamo per averla e per dare loro la massima dignità. Il progetto in quanto tale dura 365 giorni l'anno, bene, poi finisce e per problemi di rendicontazione viene sospeso come per esempio questo è il caso invece di Sciacca o comunque della regione che deve fare la rendicontazione e viene sospeso per 5 mesi, si tratta di disabili gravissimi, pariagoliamoli alla SLA dateci questa opportunità, dateci direttamente l'assegno di cura, non vogliamo soldi in più assolutamente vogliamo che i nostri soldi non vengano dati e che siano gli altri a scegliere per noi cosa fare dei nostri figli e diamo la possibilità ai nostri figli di vivere una vita autonoma, libera e dignitosa. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 10 ad Agrigento e in piazza Cavour l'associazione Crescere Insieme ha organizzato un pullman che partirà alle 8.30 dal Viale delle Terme e tutte le associazioni di volontariato che hanno indetto la manifestazione hanno già chiesto un incontro con il prefetto di Agrigento e il presidente della regione al fine di risolvere definitivamente le continue negazioni e sospensioni di servizi assistenziali indispensabili per le persone affette da grave disabilità. Si tratta di assistenza domiciliare e in questo senso non c'è una vera e propria negazione a volte il genitore non fa nemmeno la domanda invece sarebbe giusto fare un elenco di eventi diritto, la diagnosi fatta dal medico dall'equipe che se ne occupa e automaticamente avere l'assegno di cura questo eviterebbe il coinvolgimento di funzionari impiegati che non ci sono materialmente e che devono ovviamente togliere energia ad altri incombenze e quindi avvengono questi disservizi ma ripeto è come con la SLA, si tratta di disabili gravissimi e noi vogliamo l'assegno di cura noi siamo i familiari e diamo ai nostri figli la possibilità di avere una vita libera, indipendente e scegliere con chi stare, dove andare, da chi farsi curare.